Viaggiano con il vento in poppa le tre terramane del girone C di Serie B. Giulianova al secondo posto solitario, Terano e Campli nel gruppo delle 5, tra le quali Pescara, che occupano la terza piazza. Tutte reduci da importanti successi nell'ultimo turno e pronte a confermarsi nella giornata numero 8. Momento d'oro per l'Eto Milu Giulianova. Due vittorie esterne in rapida successione, ad Ortone e Recanati, hanno proiettato il gruppo di cocce Tisato all'inseguimento della capolista Sansevero. Sono quattro i punti che separano i giallorossi dai pugliesi, ancora a punteggio pieno, alla vigilia dello scontro diretto che domenica infiammerà il Palacastrum. Imporre il primo stop alla corazzata allenata dall'abruzzese Salvemini non sarà impresa facile, ma quest'anno a Giulianova si respira un clima di rinnovato entusiasmo attorno alla palla a spicchi. Perciò mai dire mai. Un gradino sotto, ecco Campli e Teramo. Entrambe hanno avuto la forza di riscattarsi contro avversarie non semplici, Porto Sant'Elpidio e Farnesi, Matera in terra lucana agli Aprutini e sono vogliose di procedere con le marce alte. La truppa di Coccimillina domenica viaggerà fin nel cuore del Salento per affrontare la neopromossa Nardò, reduci da due sconfitte consecutive. Nei pugliesi milita Valerio Polonara, fratello maggiore dell'ex Teramo Basket Achille, oggi a Sassari. Avversario ostico, che però sembra alla portata del Campli. Grossa iniezione di fiducia, dopo il KO fragoroso nel derby con Pescara, per il Teramo di Cocc Bianchi, che ha andato a riprendersi due punti a Matera. Per centrare l'obiettivo playoff i biancorossi non devono commettere passi falsi al Palas Capriano, a cominciare dalla sfida al Bisceglie di Cocc Sorgentone, squadra di valore ma attualmente attardata di due punti rispetto alla Gioia e compagni. Il Girone C finora si sta dimostrando il più difficile ed equilibrato dell'intera categoria. Ogni sfida è una battaglia da conquistare con tecnica, cuore e cervello. Giulianova, Campli e Teramo stanno dimostrando di saperlo fare.